Sì, insomma la chiusura di una ferita, una ferita che ha pagato la nostra città enormemente, questa comunità in particolare, queste comunità di Poggio San Vittorino e Poggio Cono, ma tutto il territorio cittadino, una ferita innanzitutto dal punto di vista ambientale che viene risanata attraverso la chiusura della discarica con una tecnica decisamente innovativa, una delle prime in Abruzzo sicuramente, ma delle poche anche a livello nazionale e che consente appunto di superare lo stato di sito inquinato, viene restituito alla comunità, alla collettività e anche per ulteriori investimenti che vogliamo fare dal punto di vista della transizione energetica su questo spazio e su questo territorio per valorizzare la sua capacità ambientale. E poi ovviamente anche il tema relativo all'aspetto economico, per tanti anni, per troppi anni i cittadini terramani hanno pagato risorse ingenti in termini di smaltimento del percolato, abbiamo calcolato dal 2011 al 2022 6 milioni di euro con picchi enormi prima del nostro insediamento dal 2013, 14, 15, anche per una gestione amministrativa sbagliata. Questo ormai è un aspetto che è alle spalle finalmente, quindi restituiamo questo spazio alla comunità, alla città, da commissario che ha portato a termine questo importante risultato storico per la nostra città, non posso che ringraziare tutti i nostri tecnici a cominciare dall'ingegnere Giuseppe Caffa, l'ingegnere ambientale, l'architetto Cimini come struttura tecnica comunale la provincia, l'Arta, la regione Abruzzo. Cosa sarà la discarica della torre? Noi vogliamo continuare a investire su questo spazio anche in termini di transizione energetica, quindi investire sulle risorse messe a disposizione oggi da vari livelli istituzionali, sul potenziamento energetico attraverso ovviamente anche la rinnovazione di comunità energetiche, quindi è diciamo così un passaggio fondamentale che però già guarda al futuro, non più al passato. Grazie a tutti.